Nuovo concorso per il direttore sanitario dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il dottore Giuseppe De Filippis, vincitore del recente concorso indetto dall'Asla di Salerno, ha deciso di non assumere l'incarico, preferendo altra sede. Di conseguenza, Adriano De Vita, secondo classificato al concorso che non si è mai mosso dal suo posto, resta alla guida del DEA Vallo Agropoli, fino ad ulteriori novità. Le indiscrezioni che circolavano da marzo si sono dunque concretizzate. Nonostante la graduatoria ufficiale avesse assegnato il primo posto a De Filippis, il suo impegno professionale lo trattiene, costringendo l'Asla di Salerno a ripartire da zero con un nuovo bando. L'Asla di Salerno ha già indetto un nuovo concorso per la sostituzione del direttore sanitario del DEA Vallo Agropoli. Il bando, pubblicato sul sito ufficiale dell'azienda, prevede una scadenza per la presentazione delle domande entro il 25 settembre. Si tratta di una procedura urgente a tempo determinato, in attesa della definizione di una soluzione definitiva. Adriano De Vita, dunque, continuerà a ricoprire l'incarico, ma il fermento negli uffici dell'Asla di Salerno e tra i corridoi dei presidi ospedalieri è evidente, dato che si attende ora la presentazione delle nuove candidature da parte degli aspiranti a ricoprire l'importante incarico. Il prossimo concorso rappresenterà un passaggio cruciale per il futuro dell'ospedale, considerando le sfide amministrative e sanitarie che il San Luca dovrà affrontare. rappresentare una parte importante del mio percorso di vita, quindi 35 anni sono 35 anni, quindi non è chiaro che io fino all'ultimo istante continuerò a dare il mio contributo, mettendo in disposizione le mie esperienze, il mio tempo, tutto quello che è possibile, al di là di ogni cosa, perché questo è il presidio nostro. Grazie a tutti.